Il consigliere comunale Filippo Bellanca nei giorni scorsi aveva chiesto all'amministrazione di relazionare per iscritto sullo stato dell'arte relativo al ponte Cansalamone interdetto da sette anni con grandi disagi per il transito cittadino. Ha così appreso dall'assessore ai lavori pubblici Gianluca Fisco che oltre ai quasi 3 milioni di anni disponibili dopo lo stanziamento dell'allora governo Renzi nell'ambito dei fondi del patto del sud sono necessari ulteriori 3 milioni e mezzo di euro, una condizione che scaturisce dall'aumento dei prezzi ma anche da quella che si è manifestata come necessaria rimodulazione del progetto. L'idea è quella di sostituire campate piloni, infrastrutture considerate danneggiate, considerate anche pericolose per il transito veicolare. Diciamo che la storia del ponte è una storia infinita chiuso se non ricordo male torno al 2014-2015 poi ha avuto un finanziamento da parte del governo Renzi per circa 3 milioni di euro circa, mi pare 2 milioni 930 non vorrei sbagliarmi e nel 2016 dopo un anno io ricordo feci un'interrogazione all'allora amministrazione di Paola per avere notizie appunto in merito all'eventuale apertura o alla realizzazione dei lavori che erano già stati finanziati e dopo successivamente nel 2017 da vice sindaco ho sollecitato l'amministrazione e si era fatto anche una verifica con uno studio di Messina non vorrei ricordare male per una verifica di un'apertura a senzoni alternato dopodiché non si è saputo più niente di questa vicenda. Ci sono stati diciamo 4 anni di silenzio se non forse qualche presenza che c'è stata sul ponte di qualche tecnico forse giudicatario credo dell'appalto di questo ponte insieme con la progettazione insieme forse con i funzionari del giro civile con altri insomma al di là di alcune presenze così saltuarie. Anche l'assessore Falcone è venuto. Anche l'assessore Falcone esatto ricorda bene lei ma alla fine poi la sostanza è che oggi il ponte è chiuso. Allora diciamo uno dei primi atti da consigliere comunale che rientra appunto nelle competenze ispettive del consigliere comunale ho chiesto alla nuova amministrazione se si era messa in moto per capire qual era la situazione e devo dire che ho trovato il vice sindaco fisco che aveva già attivato appunto le procedure per capire la situazione del ponte infatti mi ha risposto a una mia nota dicendomi qual è la situazione attuale cioè che c'è stato ovviamente come era logico un aumento della materia prima quindi con un incremento di spese consistente e poi c'è una rimodulazione del progetto insomma dai 2 milioni 930 che si era partiti nel 2015 circa nella nota si parla di circa 6 milioni e 300 mila euro quindi un incremento consistente di circa 3 milioni e 300 mila euro. Questi soldi adesso come si reperiscono? Quei 3 milioni ci sono ma questi? Allora io ho chiesto ovviamente all'amministrazione di attivarsi subito anche a fare un tavolo politico e tecnico per capire tutti insieme come si può andare avanti perché non è possibile che per sette anni è una strada così un'arteria così importante che collega quartieri importantissimi e molto ovviamente abitati della nostra città possa rimanere ancora chiuso e è chiaro che l'unica struttura che può intervenire la struttura commissariale per il distesso idrogeologico della regione siciliana che è l'unica che potrebbe avere delle risorse da poter usufruire e poter emettere in questa progettazione. Però ci dobbiamo muovere perché se qua noi poi si perde altri 6 mesi con la situazione purtroppo internazionale che viviamo giornalmente con l'incremento dei costi dell'energia e della materia prima certamente fra due mesi possibilmente questo progetto costerà un altro milione in più quindi di qua che ci muoviamo per andare a trovare questi 3 milioni e 4 possibilmente ce ne vorranno 4 milioni. Struttura commissariale che è quella che intervenne la prima volta. Esattamente, esattamente, che è quella che ha un'autonomia gestionale economica diversa. Anche con procedure più snelle. Anche con procedure più snelle a differenza degli altri uffici regionali o statali e quindi è l'unica con cui possiamo dialogare. Però dobbiamo muoverci subito, dobbiamo muoverci immediatamente con l'aiuto di tutti perché non è un fatto di appartenenza politica la sistemazione di un'arteria fondamentale e importante come quella del Ponte Gansalamone. È chiaro che bisogna muoversi subito per cercare di trovare le altre risorse e avviare le procedure. Nella nota mi diceva l'amministrazione che questo ingegnere D'Arrigo, credo che si chiami, il 9, forse oggi il 9 credo che sia oggi, doveva presentare il progetto al Comune, il progetto definitivo quindi si saprà ancora qualcosa di più ma dobbiamo muoverci per andare a trovare le risorse. Da anni si è disquisito in ordine all'ipotesi che il ponte potesse essere percorribile almeno con senso unico alternato disciplinato da un semaforo ma fino a oggi non se ne è fatto nulla. Un problema che va affrontato attraverso il commissario per l'emergenza idrogeologica, lo stesso che aveva finanziato il progetto di intervento che però non è mai iniziato in sette anni.